L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Ancora troppi carabresi senza vaccino, il dato emerge dall'ultimo report del governo, anche per la terza voce, indossare in Calabria, si va a rilento, la drangheta stava operando un attentato, il comitato ordine e sicurezza pubblica, riusciti ieri sera a Rizzigoni, ha intensificato i controlli in tutta la provincia di Reggio Calabria. Troppi sbarchi nella Locrida, in difficoltà il sistema dell'accoglienza, il sindaco di Rocella, Zito, dice noi ci siamo ma il governo ci aiuti. Contratto istituzionale di sviluppo, Amaria Bruni chiede un tavolo regionale con Anci e province, gli enti locali, dice, vanno supportati. Quarta sconfitta stagionale per il Crotone, ad Alessandria, pesa un grave errore difensivo che ha regalato la vittoria ai piemontesi. Sabato 23 ottobre 2021, ben trovati sul 18 per informazione regionale di Esperia TV. Ancora troppi, troppi calabresi senza il vaccino, il report del governo parla chiaro e sulla terza dose si va a rilento. In due settimane i vaccini somministrati sono aumentati di un terzo. Comincia a vedersi la spinta del Green Pass, ma rimane una grossa fetta di irremovibili. Sono ancora 7 milioni e 600 mila gli italiani che non hanno fatto neanche una dose. E sono quelli tra i 30 e i 49 anni che fanno più resistenza. Mentre tra i più giovani l'adesione è alta. L'80,5% nella fascia tra i 20 e i 29 anni si è immunizzato. Il desiderio di socialità spinge la campagna anche tra i teenager. 3 milioni di ragazzi tra i 12 e i 19 anni hanno fatto le due dosi. Il 68,3% ha già fatto la prima dose. Leggendo i dati sulla Calabria emerge che risultano ancora scoperti circa 25 mila over 80, oltre 26 mila over 70, oltre 52 mila calabresi tra i 50 e i 59 anni. Inoltre la Calabria è penultima nelle percentuali degli over 30 e degli over 20 che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Ma anche l'avvio della campagna di somministrazione della terza dose in Calabria sembra piuttosto lenta. Secondo i dati del commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo, finora nella nostra regione hanno fatto la terza dose e poco più di 3.300 oltre over 80, 1.070 over 70, oltre 1.100 over 60. Intanto da Roma interviene il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri che non esclude il mantenimento dell'obbligo del Green Pass ben oltre il 31 dicembre, data prevista per la fine dell'emergenza. Lo terremo, dice, per diversi mesi ancora, anche per una parte del 2022. E oggi ha parlato anche l'altro sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa. Oltre 105 milioni di Green Pass sono stati scaricati. Ciò, dice Costa, sta a significare che i cittadini hanno preso consapevolezza dell'importanza anche di questo strumento per proseguire questo percorso. Per Costa ha prevalso la maggioranza silenziosa del nostro Paese che, mentre la politica discuteva sull'utilità del Green Pass, nel frattempo vi ha aderito. Voltiamo pagina, cambiamo esattamente argomento. Rischio attentati nel Regino. Ieri sera la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Reggio Calabria. Sono stati intensificati i controlli nei punti sensibili e aumentate le misure di sicurezza per proteggere che ha denunciato l'Andrangheta nella piana di Gioia Tauro. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Reggio Calabria, riunitosi a Rizziconi, dopo quanto emerso nell'ambito dell'inchiesta della DDA sulla Cosca Crea che stava preparando un attentato per far saltare in aria un'autoblindata. All'incontro hanno partecipato il prefetto di Reggio, Massimo Mariani, il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, i vertici delle forze dell'Ordine, il Sindaco metropolitano Falcomatà ed i sindaci di Rizziconi, Cittanova e Scido. La convocazione del Comitato a Rizziconi ha detto Bombardieri un segnale ulteriore dell'attenzione delle istituzioni centrali e locali verso il territorio, verso le persone che maggiormente si sono esposte con le loro denunce contro la criminalità organizzata. A margine del Comitato, il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha detto che è necessario riaffermare la presenza della squadra Stato, trasmettere un messaggio di vicinanza alla comunità dei cittadini onesti, condannare con forza una certa subcultura criminale che ancora attanaglia una parte del territorio della piana di Gioia Tau. Intanto ha lasciato il carcere per l'obbligo di dimora nel comune di Latina con la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle 21 alle 7, Francesco Larosa. Francesco Larosa, 50 anni, è ritenuto il boss della drangheta di Tropea, la decisione del Tribunale di Vibbo, dinanzi alla quale Larosa è imputato nel maxiprocesso rinascita scotta, a cui si riferiscono queste immagini. Per lui i giudici avevano disposto un accertamento peritale, il perito ha attestato la compatibilità carceraria, ma al contempo ha ravvisato la necessità che Larosa venisse trasferito in una struttura penitenziaria vocata al confronto con le problematiche psichiatriche e tossicologiche. Il Tribunale ha accolto l'istanza difensiva della scarcerazione disponendo per l'appunto per Larosa l'obbligo di dimora nel comune di Latina. Nel maxiprocesso rinascita scotta, l'uomo è imputato per i reati di associazione mafiosa, violenza privata aggravata dalle modalità mafiose. A Dunna, calabrese residente a Chieti, la Guardia di Finanza ha confiscato beni per un milione di euro. I militari del Comando Provinciale delle Guardie di Finanza di Chieti hanno proceduto a notificare un decreto di confisca disposto dal Tribunale di L'Aquila ad un pregiudicato calabrese di 39 anni. Il provvedimento è stato emesso su proposta della procura distrettuale antimafia che aveva condiviso le ipotesi investigative condotte dalla Finanza. Immobili, società commerciali e una ditta individuale per un valore complessivo di circa un milione di euro che erano nella disponibilità del pregiudicato. Già arrestato e condannato a 28 anni di reclusione e che fino ad un mese fa circa era anche sottoposto all'obbligo di dimora in provincia di Chieti, con la confisca ritornano nella disponibilità dello Stato. Fondamentale è stata l'analisi da parte degli investigatori dei redditi dichiarati dal 2000 al 2020 dall'uomo e dai suoi familiari che si sono rivelati esigui e incongrui rispetto al valore dei beni acquistati e al tenore di vita mantenuto. L'aggressione dei patrimoni illeciti consente di colpire le organizzazioni criminali e chi è abitualmente dedito a vivere nell'illegalità nel cuore dei propri interessi. Le indebolisce nella loro finalità riducendone anche la forza di intimidazione sui cittadini e crea i presupposti per poter restituire alla collettività i beni così acquisiti. Un uomo è morto questa mattina in località Pontevecchio a Palmi dopo che l'auto che stava guidando per causa in corso di accertamento è uscita fuoristrada precipitando in un burrone la vettura un Audi A3 ha compiuto pensate un volo di circa 50 metri che non ha lasciato scampo al conducente deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi che sono riusciti a calarsi nel burrone e hanno estratto il cadavere dalle lamiere dell'automobile. Inutili tentativi di prestare soccorso da parte dei sanitari il servizio di emergenza 118. Sono gravi ma stazionari e fortunatamente le condizioni del 36enne coinvolto nella tarda serata di ieri in un brutto incidente stradale verificatosi a Crotone. Due veicoli, una SUV Nissan ed una Fiat 500 si sono scontrati frontalmente lungo la strada a doppia corsia di via Giovanni Paolo II in concomitanza di incrocio con via Gioacchino da Fiore. Sul posto sono intervenuti i sanitari al 118 per il più grave si è reso necessario il trasferimento a Catanzaro dove è attualmente in terapia intensiva. L'altro automobilista coinvolto nel sinistro ha riportato una frattura scomposta al polso sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato e i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Roccella Ionica ha fatto tantissimo ma non può fare l'impossibile. e speriamo che nei prossimi giorni qualcosa si muova prima che sia troppo tardi. Vittorio Zito, sindaco di Roccella Ionica lancia l'ennesimo appello dinanzi alla situazione venutasi a creare nel porto della cittadina della Locride è divenuto ormai luogo di approdo continuo per centinaia di migranti. Da inizio anno sono oltre 3.200 quelli giunti a Roccella quasi 9 volte, dice Zito, il numero dei migranti del 2019 e più del doppio di quelli arrivati lo scorso anno, nel 2020. Non abbiamo né autonomia di spesa né forza finanziaria, dice ancora Zito, per sopportare questo impegno. Per questo motivo abbiamo chiesto da tempo al Ministero dell'Interno di affiancarci concretamente e immediatamente. A proposito di migranti, oltre 300 sono in arrivo a Crotone, i migranti sono stati trasbordati su un pattugliatore romeno e sulla nave militare Dattilo. Amalia Bruni, leader del centro-sinistra in Consiglio regionale, interviene su uno strumento importante, il contratto istituzionale di sviluppo della Calabria. Se ne è parlato, se ne è discusso nei giorni scorsi, grazie al Ministro per il Sud e anche alla sottosegretaria al Sud della calabrese Dalila Nesci. Per la Bruni è urgente un tavolo tra la Regione, Lancia e le province per raccogliere le proposte progettuali da utilizzare proprio per questo importante progetto. Anci Calabria e le province aprono subito un tavolo di discussione progettuale con gli enti locali per individuare e raccogliere le proposte progettuali da utilizzare per il contratto istituzionale di sviluppo Calabria. A dirlo è Amalia Bruni, leader dell'opposizione in Consiglio regionale. La Regione si impegni, aggiunge, per creare opportunità di interazione economica che permettano di sostenere finanziariamente i comuni nella progettazione. Il bisogno di rilancio e riscatto della Calabria parte dalle città. Il CIS spiega a Labbruni proprio quello strumento che serve ad accelerare i progetti strategici concepiti per valorizzare i territori. Gli interventi che saranno finanziati con risorse nazionali ordinarie, risorse comunitarie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dovranno essere individuate attraverso una concertazione progettuale con gli enti locali, rendendoli propositivi, in un percorso condiviso che permetta soluzioni strategiche e progetti cantierabili e addizionali. Il problema è che gli enti locali, soprattutto quelli che nel corso degli anni hanno visto ridursi drasticamente il proprio personale, non hanno gli strumenti o i mezzi per realizzare progettualità vincenti. La Regione Calabria deve quindi intervenire, sorta all'esponente del centro-sinistra, finanziando i comuni nella fase progettuale attraverso un tavolo di concertazione, ma occorre fare in fretta. A proposito di enti locali, dopo il Comune anche la provincia di Crotone dice no alla realizzazione di una discarica per i fiuti pericolosi e non in località Gianmilione, dopo l'ok della Regione. Vediamo questo servizio. Dopo il Comune anche la provincia di Crotone ha espresso la totale contrarietà all'autorizzazione da parte della Regione Calabria della discarica della società abruzzese Maio Guglielmo SRL in località Gianmilione, nel territorio al confine tra i comuni di Scandale e Crotone. Il parere negativo dell'ente intermedio, inoltrato alla Regione Calabria, settore valutazioni e autorizzazioni ambientali e trasmesso anche al Comune di Crotone, ribadisce la decisione assunta ben 12 anni fa dal Consiglio provinciale nella seduta dell'11 settembre 2009. L'ente intermedio spiega le ragioni per le quali boccia e respinge l'ipotesi di una discarica, citando tra le altre cose come l'area sia a destinazione agricola come da PRG del Comune di Crotone. Inoltre la zona interessata è stata oggetto di ritrovamenti archeologici. Manca uno studio approfondito sulla diffusione di inquinanti e di emissioni che contempli la distanza dai centri nuclei abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. In relazione al benessere della salute umana, spiegato dalla provincia di Crotone, non è stata fatta adeguata analisi circa la compatibilità delle conseguenze dirette e indirette dell'attività con gli standard e i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo, con particolare attenzione alle emissioni. Lo studio di fattibilità sottoposto a parere, sottolinea la provincia di Crotone, necessita di approfondimenti e studi, vi è incoerenza ed incompatibilità con gli strumenti vigenti di pianificazione e programmazione territoriale ed è per questo che si esprime la totale contrarietà alla realizzazione della discarica. Stiamo a Crotone, ci occupiamo adesso di medicina, si è concluso quest'oggi un importante congresso dedicato alla diabetologia, tanti gli esperti che sono confrontati sulla malattia che ha in Italia ma anche in Calabria una incidenza molto alta. Luigi Saporito. Il diabete, patologia subdola, che colpisce l'8,5% della popolazione mondiale, è stato al centro di una tre giorni nei quali si è dibattuto sull'emergenza in tema di pandemia, il ritorno alla normalità, le nuove frontiere, i rimedi clinici e farmacologici. Il simposio si è tenuto a Crotone e ha visto la partecipazione di professionisti della materia giunti da ogni parte d'Italia. I nuovi orizzonti per combattere il diabete li ha illustrati Salvatore De Cosmo parlando di nefropatia e malattie macrovascolari. Oggi per fortuna abbiamo nuovi presidi terapeutici che ci permettono di prevenire quelle che sono le complicanze gravi della malattia diabetica. Basta ricordare che il diabete è la principale causa di cecità nei paesi occidentali per i danni che provoca la retina e la principale causa di eventi cardiovascolari ma soprattutto la principale causa di insufficienza renale terminale. Vole a dire quel grado di insufficienza renale che richiede il trattamento renale sostitutivo, dialisi o trapianto renale. Dicevo che per fortuna oggi abbiamo nuovi presidi terapeutici sono nuove classi di farmaci cosiddetti innovativi che ci permettono di prevenire complicanze cardiovascolari e le complicanze renali. Il colesterolo alto è uno degli effetti che maggiormente procurano allarme che può essere l'anticamera della patologia diabetica. Il diabete è molto diffuso però altrettanto diffuso è l'aumento del colesterolo che nel caso del diabete è particolarmente pericoloso non tanto perché sono due fattori di rischio ma perché il colesterolo elevato nei soggetti che hanno il diabete è un colesterolo più cattivo rispetto al colesterolo di soggetti che non hanno il diabete. A causa di una serie di trasformazioni che subisce il colesterolo all'interno del circolo arterioso diventa più aggressivo e può quindi più facilmente causare aterosclerosi, infarto, ictus. Questo è il motivo per cui è assolutamente indispensabile controllare il colesterolo nei soggetti che hanno il diabete. Il diabete si combatte per lo più con interventi farmacologici ma quando è necessario si ricorre alle maniere forti. Esistono ormai numerose evidenze che dimostrano come la chirurgia variate o meglio la chirurgia metabolica sia capace di determinare una remissione o una risoluzione assoluta del diabete dopo l'intervento chirurgico. Questa tecnica praticamente va a determinare che esistono diversi tipi di intervento quello più utilizzato è quello che determina una riduzione della cavità gastrica quindi dello stomaco per cui il soggetto mangia di meno oppure in alternativa si può fare il bypass gastrico cioè lo stomaco viene completamente bypassato, superato e di conseguenza gli alimenti passano direttamente nell'intestino. Questo va a determinare una serie di modificazioni di una serie di ormoni che sono ormoni che vengono prodotti dall'intestino e che contribuiscono a migliorare la secrezione insulinica e quindi di conseguenza il diabete. Cogliere le occasioni legate ai fondi comunitari per incidere sul territorio il Rotary di Crotone ha discusso di economia e non solo. Ripresi in presenza a Crotone gli incontri del Rotary, i cosiddetti caminetti momenti di condivisione sulle tematiche che riguardano il territorio. Tema dell'ultima serata l'economia che in questa fase significa soprattutto fondi comunitari e PNRR. Per Sabrina Gentile, presidente del Rotary Pitagorico oggi più che mai è necessario fare squadra. La valorizzazione di ciò che è positivo e di ciò che è bello nel nostro territorio però tutti gli attori delle parti sociali dovrebbero essere a sistema, dovrebbero lavorare insieme proprio per portare su tutto ciò che c'è di positivo che possa quindi nascondere il negativo. E per parlare di opportunità legate all'Europa è intervenuto Antonio Mazzei di Fincalabra. Qua sta tutto alla capacità che ha diciamo il sistema delle istituzioni, il sistema delle imprese a cogliere questa opportunità che credo che sia un'opportunità unica per il Sud di riagganciare i sistemi produttivi internazionali perché altrimenti diventa davvero un problema. I soldi in arrivo sono tanti in questo senso un ruolo centrale dovranno svolgerlo gli enti locali. Ora è necessario dotare gli uffici di personale che spesso risulta sotto organico. Per Fabio Tomaino, segretario provinciale della UIL Bisogna adesso che ci sono risorse anche per quello fare concorsi e far entrare con dei criteri oggettivi gente capace e nuovi professionisti che invertano la rotta nella progettazione e nella spesa dei fondi europei. Per il primo cittadino di Crottone non è necessario difendere il territorio in tal senso Vincenzo Voce parlando dell'attualità delle cose ha sottolineato la più ferma contrarietà alla realizzazione della discarica per i fiuti pericolosi e non in località Gian Miglione. Questo è inaccettabile non l'accettavo prima di diventare sindaco a maggior ragione non posso accettarlo adesso. Marco Giambra è il nuovo questore di Crottone 56 anni siciliano di San Cataldo in provincia di Caltanissetta proviene da Napoli dove è stato vicario del questore Giambra è entrato in polizia nel 1985 una lunga esperienza maturata a Reggio Calabria Messina, Vibo, Valencia e Napoli il nuovo questore si presenterà alla stampa lunedì prossimo 25 di ottobre a 17.30 in questura a Crottone. Lo sport calcio un brutto Crottone lascia l'intera posta in palio nella trasferta di ieri sera ad Alessandria fatale un errore difensivo ma la squadra in campo ha dimostrato di non avere idee e soluzioni mentre la classifica si fa sempre sempre più complicata. Le commesse nel calcio è bene giocarle una per volta se poi se ne vogliono giocare più di una ecco il fallimento ne dovrebbe sapere qualcosa alla società del Crottone che sta scherzando col fuoco squadra quasi completamente rinnovata con molti giovani e tanti elementi di Serie C è un allenatore che dopo nove giornate sta dimostrando di capirci poco o nulla. La riprova la si è vista ad Alessandria contro una squadra neopromossa che ha messo in difficoltà un Crottone che è sofferto nei primi 20 minuti e poi è scomparso nella ripresa. Si parte dal rigore regalato da Cuomo agli avversari da dischetto Corazza fa fare un figurone a Contini che respinge il secondo tiro dagli 11 metri di fila. Dopo la sfuriata iniziale dei piemontesi il Crottone fa qualcosina una punizione di Marici e due colpi di testa di Cuomo e Mogos ma nel finale è Nedel Ciaru che regala la palla con la partita a Corazza che consente a Colai e all'Alessandria di andare a riposo avanti. Dopo l'intervallo però si sono viste le cose più brutte. Il Crottone in pratica non gioca non costruisce non ha una sola idea buona da sfruttare e non tira mai in porta. Carbò entrato per Borello è fumoso bulice e impalpabile davanti i palle buone non ne arrivano anzi e Contini chiedeva salvare la sua rete dal 2 a 0 da un tentativo di Colai da quasi 50 metri. Calabresi in 10 nel finale per il rossa Carbò e classifica che si complica maledettamente e giovedì all'uscita arriva il Benevento. Sempre in Serie B il Cosenza in campo da poco meno di mezz'ora contro il Benevento e domani al Granillo la regina ospiterà il Parma sempre domani in Serie C impegni casalinghi per le due Calabresi il Catanzaro lanciatissimo dopo 4 vittorie di fila ospiterà il Monopoli mentre la Vibonese reduce dal pareggio di Messina ospiterà il Blassonato Palermo ed ora le previsioni del tempo come sempre a cura di trebimeteo.com Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale dai Parigi di Trebimeteo l'alta pressione dominante sull'Europa centro-orientale domenica abbraccerà anche l'Italia centro-settentronale favorendo bel tempo e stabilità mentre quest'area di bassa pressione in formazione tra Tunisia e Ionio è responsabile di maltempo come osserviamo dalla grafica delle precipitazioni al sud e sulle isole maggiori da prima sulla Sardegna successivamente anche tra Calabria e Sicilia i versanti ionici saranno i più esposti a precipitazioni insistenti e anche intense in definitiva ci attende una domenica con bel tempo e stabilità al centro-nord come osserviamo estesi rasserenamenti avremo invece maltempo al sud e sulle isole maggiori con precipitazioni anche intense specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria ionica il tutto con temperature massime in locale diminuzione rinforza la ventilazione da est-nord-est e i mari saranno sino ad agitati maggiori dettagli e sulle vostre località vi attendono come sempre sulla nostra app gratuita Trebi Meteo è tutto grazie per averci seguito la nostra informazione regionale tornerà più tardi a dopo grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito